24 e 25 settembre vi aspettiamo a parteno play a città della scienza in via coroglio 57 ci sarà il festival del gioco per tutti dalle 10 alle 17 il festival in cui è possibile sperimentare il gioco con oltre 20 realtà campane un momento di incontro e di confronto per giocare con tutta la famiglia mi raccomando venite con i vostri figli con i vostri amici con i vostri parenti potete prenotarvi sul sito www.partenoplay.it fino ad esaurimento posti non mancate vi aspettiamo